Tanti libri per Lorenza Meletti La Biblioteca Comunale è intitolata a Lorenza Meletti, una poetessa, studiosa, letterata, filologa, studiosa dei rapporti tra la lingua italiana e il dialetto di origine bondenese che nella sua veste di insegnante si è trasferita ma ha mantenuto rapporti strettissimi con il paese natale fino alla sua morte che è avvenuta nel 1995. C'è stato anche un ricordo nell'occasione del ventennale della morte di Lorenza Meletti a cui ha partecipato anche i membri della famiglia e quindi è per la passione di Lorenza Meletti per la cultura e per i libri si è pensato di intitolare la Biblioteca a questa figura che è tra i letterati bondenesi di maggior spicco. Scaffali aperti, sezioni speciali, una biblioteca per tutti i cittadini di Bondeno. Per quanto riguarda l'istituzione biblioteca, la Biblioteca Comunale Meletti di Bondeno è una biblioteca di pubblica lettura, quindi non ha una vocazione specialistica ma di tipo generale e generalistico. È suddivisa in sale a seconda della disposizione e della collocazione dei volumi che seguono una legge biblioteconomica che è la collocazione della classificazione decimale di Ui. è a scaffale aperto, quindi significa che l'utente ha diretto accesso ai volumi che sono collocati nelle diverse sale. Pur avendo però questa vocazione generalistica, ospita tre sezioni che chiamiamo sezioni speciali. Una di queste è la sala ragazzi, che ha un patrimonio di circa 6.300 volumi, suddivisi dai primi libri, primissimi libri, libri gioco per i più piccoli, libri di lettura di diverso carattere, generale, generalistico, avventure, fantasy, horror, eccetera, fino ai testi che invece riguardano la possibilità di approfondire le curiosità personali e le ricerche scolastiche. Per questo la sala ragazzi è anche dotata di tavoli, di uno spazio dedicato ad ospitare le diverse classi e uno spazio particolare è stato oggetto di revisione recente da parte dei volontari del servizio civile che hanno elaborato un progetto di facilitazione all'approccio del libro, un progetto che si chiama Cerca il libro adatto a te, che è stato elaborato in modo tale da favorire l'approccio visivo al libro a seconda delle fasce di età e anche soprattutto delle capacità di lettura dei bambini. Recentemente sono anche arrivati dei nuovi arredi che quindi hanno dato un aspetto ancora più colorato e più vivace alla sala ragazzi. Per quanto riguarda la seconda invece sala speciale, scaffale speciale, è lo scaffale che è dedicato alla storia locale. Lo scaffale della storia locale raccoglie circa 3.700 volumi dedicati alla storia di Bondeno, delle sue origini, del suo territorio, delle sue tradizioni. Sono tutti libri a stampa che hanno un carattere molto strettamente legato al territorio, soprattutto di Bondeno, anche qualcuno della provincia di Ferrara, ma che portano avanti la cultura della memoria, memoria che viene approfondita e arricchita da studi ogni anno di studiosi che sono appassionati della storia di Bondeno e ci danno oppure volumi oppure è l'amministrazione stessa che si fa carico di pubblicare testi di storia locale. L'ultima sezione speciale della biblioteca è nata nel 2017, si chiama DOCSI, documentazione sisma, ed è nata in occasione del ricordo del recente terremoto delle nostre zone, nato uno scaffale che è stato inserito in un progetto generale che ha riguardato il tema della prevenzione, il tema del ricordo, il tema dell'approfondimento degli studi con un convegno ad hoc nel maggio del 2017, curato da Serenella e dall'olio e in questa occasione case editrici, istituti di studi diversi, ci hanno donato diversi libri, sono stati tutti catalogati e sono disponibili al pubblico, tant'è che nel corso di questo anno, praticamente anno e mezzo, sono state anche oggetto di tesi di laurea e di ricerche da parte di studiosi. È un centro quindi ben organizzato che raccoglie appunto questi testi, volumi, editi, ma anche la documentazione tecnico-amministrativa che è stata prodotta dal momento del sisma fino ad oggi e viene aggiornato annualmente attraverso l'incremento delle operazioni che vengono fatte dagli uffici comunali oppure attraverso gli articoli di stampa. 10.000 prestiti, ma non solo per Bondeno. La Biblioteca Comunale di Bondeno è costituita da un patrimonio complessivo generale di circa 38.000 documenti, per lo più si tratta di volume, anche se abbiamo naturalmente una raccolta di video, di cd, di cd roma e di cd musicali. I prestiti nel 2017 sono stati circa 10.000, si sono incrementati di circa un migliaio. Tra questi distinguiamo anche a livello statistico i prestiti per ragazzi che sono stati circa 3.000. abbiamo inoltre la stretta collaborazione con tutte le biblioteche della provincia che sono inserite nella rete provinciale e quindi applichiamo anche il prestito intersistemico tra una biblioteca e l'altra e quindi siamo una delle biblioteche che prestano di più a livello del territorio provinciale. Il digitale, perché la cultura non passa solo per la carta. Il processo della digitalizzazione è stato anche un'idea che ci è venuta guardando la indisponibilità ormai sul mercato di alcuni testi di storia locale. Quindi dalla sezione di storia locale della biblioteca abbiamo anche fatto una scelta di alcuni testi per poterli poi conservare e ritrovare grazie alle nuove tecnologie in formato digitale. Per cui abbiamo scelto di partire da alcuni volume di storia locale come la storia di Bondeno di Monsignor Guerrino Ferraresi come il catalogo Bondeno dalle origini al Rinascimento per poi passare alla digitalizzazione di documenti d'archivio. Per questo progetto è stato utilizzato uno scanner particolare ed è un progetto che è stato portato avanti e concluso dai volontari del Servizio Civile Nazionale che sono stati presso di noi nell'ultimo anno e che hanno contribuito ad esaltare e a valorizzare al meglio le nostre risorse e i nostri progetti. Abbiamo utilizzato uno scanner a testa mobile che permette di scansionare i documenti senza doverli appoggiare oppure aprire su una lastra di vetro ma permette di fotografarli dall'alto. Abbiamo scansionato ogni documento del fondo antico fronte e retro in modo da fare un'istantanea proprio di quel documento in quel momento. Quindi tutti i suoi anni di storia, i suoi secoli di storia sono in quella scansione fronte e retro. Siamo arrivati a un totale di circa 2200 documenti che però sono documenti in multipagina quindi ancora più fogli. Abbiamo scansionato 43 cassette in maniera quasi integrale a parte i documenti che non permettevano di essere scansionati quindi con rilegature fragili oppure in pessimo stato di conservazione o illegibili. La Biblioteca Comunale conserva anche nella storia locale nella sezione di storia locale tutte le edizioni di belle storie e delle interviste e testimonianze di chi ha contribuito nel proprio campo e con i propri interessi a valorizzare il territorio e le istituzioni del Comune di Bondeno. E da oggi ci sarò anch'io. I miei primi vent'anni da bibliotecaria a Bondeno La bibliotecaria è stata una scelta voluta è un mestiere che non è un mestiere è una passione si cerca di andare in conto a tutte le esigenze dell'utenza di coprire tutti gli interessi al di là degli interessi personali del bibliotecario e dei collaboratori è una passione per la cultura per il libro per l'informazione è sentire che la pagina scritta è un vissuto e anche una proiezione verso il futuro per quanto riguarda i momenti in questi ormai 20 anni che lavoro nella Biblioteca Comunale di Bondeno ho vissuto momenti veramente di grande soddisfazione ed anche di grande emozione e uno in particolare lo ricordo strettamente ed è stata l'ospitare una scrittrice di Finale Emilia Casalini che mi ha commosso con le sue poesie e il suo intervento in modo particolare una dedicata alla madre gli utenti ti stupiscono sempre una di quelle ricorrenti frasi che ci stupiscono vorrei un libro quindi ed è una frase che francamente spiazza il bibliotecario perché l'altra è stata ma qui avete avete dei libri a volte ci è venuto da dire sì non abbiamo panini alla mortarella e anche quando chiedono cosa mi consigli da leggere è veramente spiazzante perché è estremamente soggettiva la sensibilità letteraria è soggettiva la cultura che tu hai quello che vuoi le aspirazioni quindi consigliare un libro è veramente molto ma molto difficile e facciamo del nostro meglio andando poi arrampicandoci anche sugli specchi e cercando un po' di diventare anche un pochettino psicologi perché di fronte abbiamo delle persone e quindi calcolare un po' la psicologia e dove potrebbe andare a parare l'interesse primario della persona ecco ecco a parare l'interesse primaria e poi Grazie a tutti.